Musica Nell'antistato di San Giovanni Marignano, causa lavoro allo sbrighi, si affrontano due squadre che si affrontarono l'ultima volta in più a categoria il giorno della promozione di promozione di Morciano. Si tratta subito di un big match da due squadre destinate ad essere protagoniste nell'attuale torneo. I Verrucchi, bentornato a Morciano in prima, lo dà a suo modo. Una palla scodenata dall'area avversaria diventa un invito a nozze per Genghini che si inventa assolutamente una pallombella che batte Marconi. Davvero un gran gol. Il calcio piazzato in buona vitacola chiama il tuffo copertina all'attento Marconi. A questo punto il Verrucchio esce di scena ed entra in Morciano. A diciottesimo proprio i locali pervengono a pareggio. Il lancio di tenti è preciso, l'aggancio di Logoni con la testa per poi portarsi il pallone sui piedi altrettanto. Ed ecco che l'attaccante davanti a Marconi non si fa pregare per i pari bianco-rosso, meritato l'abbraccio dei compagni. Il Morciano riassaporato alla prima inizia a giocare in soltezza. Qui decisiva la chiusura tempestiva di Schipano. Mai golle nell'area. Nasce da un grande assolo di Gravina. Pallone nell'angolo. Il sorpasso a questo punto è cosa fatta. 2-1 per il Morciano. Prima della cuscia di tempo Dragoni serve Puglisi. Il numero 7 va in rete ma viene annullata per fuorigioco. Squadra riposo sul 2-1. Nella ripresa Dragoni porta spasso mezza difesa prima di concludere al lato. Ma grande, grande azione da parte del numero 9. Primo piano meritato per lui. E mentre Verrucchio in fase di disimpegno prova a liberare la propria area di rigore, Colonna si fa soffiare palla e per Puglisi il gioco di gambe. Con la palla vedo o non vedo ed applausi a scena aperta con puntata finale da calcetto e bacio meritato dalla propria ragazza. 3-1 per il Morciano che dà il primo avvertimento a tutte le avversari come possibile candidata alla vittoria finale. Grazie. Grazie. Grazie.